Salve a tutti, sono Chiara e volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al primo giorno. Questo è il secondo giorno, quindi la domanda sarà questa. Qual è il tuo personaggio preferito? Beh, io vi dico che è il mio, senza neanche pensarci, di voto, dico, Albert Wesker, della saga di Resident Evil, personaggio creato dalla Capcom. E' apparso nel 96, se non dico una boiata. Wesker è uno dei personaggi, secondo me, davvero bene, ma io ho sempre adorato il suo carattere forte, il suo carattere serio, che non si spezza, non si piega davanti a nessuno. E se devo dirla tutta, l'unica cavolata che ha fatto è stata quella che nel 5 si è sovravalutato. Negli altri capitoli sapeva cosa era giusto e cosa era sbagliato. Invece nel 5 si è lasciato a molto andare. Vabbè, ma come ogni cattivo tutti devono morire. Ma comunque, Wesker è il mio personaggio preferito. La voce è stupenda. Adoro ogni cosa di lui. Amo la sua storia, di come è stato creato, il perché gli hanno dato il nome Wesker, di come è andato missione per gli studi. Ogni cosa di lui mi affascina. è un personaggio stupendo, secondo me. Ovviamente, parlando per il mio gusto personale, poi c'è chi ama altri personaggi. Però Wesker è un personaggio davvero fatto bene. Non mi ha deluso come me l'hanno fatto nei film, nonostante i film lasciano molto a desiderare. Non proprio tutti, però la maggior parte sì. Tutti e due i film hanno avuto due attori differenti. Bellissimi tutti e due. Wesker, io lo considero un maestro, un maestro proprio... Ora mi direte se sei fanatica, Chiara. No, è proprio uno che riesce a manipolarti fino in fondo. Da tutti i capitoli, tutti, tutti i capitoli. Dal primo Resident Evil, no, dallo zero fino al cinque. Riesci a manipolarti. Mi piace anche la storia della parte che ha avuto in Ultimate Marvel versus Capcom 3, scusate se mi sono impappinata, dove Wesker è molto interessato molto a Vergil. Vabbè, lui vuole ottenere sempre questi cavoli di campioni, degli eroi, per creare un esercito di supereroi. Vabbè, questo lasciamolo, tralasciamolo. Io, che dire, compare in altre missioni, come i molti giocatori dei mercenari. E che dire, è un personaggio stupendo. Ora vi faccio questa domanda. Qual è il vostro personaggio preferito? Potete rispondere. Grazie ancora per le persone che hanno commentato. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.